Ciao a tutti, faccio questo breve video per fare un po' il punto sul mio povero canale che sta passando un momento così di stand by diciamo. Avevo in programma di fare la terza e ultima parte della storia del mago caramello ma un malanno tipicamente autunnale con un po' di bronchite e raffreddore ha reso la mia voce sentito un po' ancora adesso poco adatta per per raccontare le storie e quindi ho messo un po' in pausa questo aspetto del canale. Vi faccio vedere in attesa che la mia voce torni normale che già adesso va molto meglio, in attesa di fare questa terza parte della storia, vi faccio vedere qualche disegno in anteprima ed ecco qua questa è una parte di quello, scusate, di quello che vedremo non appena la mia voce mi permetterà di raccontarvi il gran finale della storia, spero che vi possa far piacere e che arriviate numerosi a vedere il gran finale. E l'altra cosa che spero di riuscire a fare, se mia sorella Giovanna mi manderà dell'altro materiale dall'India, da Maison nel sud dell'India, se la cosa vi può far piacere e fatemelo magari sapere giù nei commenti, pubblicherò degli altri spezzoni di vita indiana, dei piccoli vlog di vita indiana, spero che la cosa possa farvi piacere e questo appena mia sorella mi manderà l'altro materiale. Bene, questo è tutto, questa è un po' la programmazione futura del mio canale io concludo qua questo brevissimo video, vi saluto, vi auguro buona serata, per me sono le sei e mezza di sera più o meno, se lo guarderete di sera buona cena a tutti, buona serata e spero che ci vedremo presto con le mie storie e i vlog sull'India. Ciao a tutti, un bacio!